Per spezzare una lancia a favore del tempo, c'è da dire che non è che lo sprechiamo, nel senso che, voglio dire, si lavora anche, io vorrei condividere che con i colleghi della FAB e delle altre organizzazioni, noi ci vediamo praticamente tutti i giorni, parlo solo per quello che riguarda il gruppo BCC Crea, il gruppo BCC Crea apre una procedura ogni due giorni e fa un accordo alla settimana. Questo implica temporalmente un investimento temporale enorme che è finalizzato a buon fine perché facciamo l'accordo, per il momento abbiamo sempre fatto l'accordo in tutte le volte in cui era previsto perché c'è una volontà comune da una parte e dall'altra di fare gli accordi. Quello che è emerso è, e questo ne è una dimostrazione, è la necessità di sviluppare sempre più questa relazione. I temi non mancano, al di là della presentazione della piattaforma, che in un gruppo è stata fatta, nell'altro no, ma è proprio il quotidiano che ce li dà, cioè tutte le cose che facciamo giorno per giorno insieme al sindacato. Quindi vediamo, la cosa che io trago come sintesi è questa, la cosa più importante, è quella di seguire insieme un qualcosa che per sua natura è in evoluzione quotidiana. Questa evoluzione, se la seguiamo con gli accordi sindacali, con le relazioni insieme, a qualunque livello la facciamo, è la cosa migliore che può accaderci. Grazie. 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 Grazie.